Come ogni anno, dopo Natale, la banda musicale di Carlo Forte regala al suo pubblico il concerto di fine anno, per augurare a suon di musica un felice anno nuovo. La banda a quest'anno compie 28 anni. Nella sera del 30 dicembre, al suono degli strumenti in alcuni brani, si accompagnava la voce di alcuni cantanti. I pezzi che sono stati eseguiti sono stati di genere diverso, per tutti i gusti. Alcune canzoni del panorama della musica italiana, come L'emozione non ha voce, di Bella e Rapetti. I migliori anni della nostra vita, di Renato Zero, un medley di tre brani di Fabrizio Di Andrè, Musiche Natalizie e ancora We Are The World, C'era una volta l'Ouest, Giù la testa, Conca d'oro, Gabriels Obwe, colonna sonora elaborata da Ennio Morricone per il film Mission, The Final Countdown, What a Wonderful World, L'Ave Maria ed il classico finale con il brano di Bixio, Buon anno e Buona Fortuna. Il teatro mutua era quasi pieno e la gente ha gradito molto l'esecuzione dei bandisti. Il teatro mutua era quasi pieno e la gente ha gradito molto l'esecuzione dei bandisti. Il teatro mutua era quasi pieno e la gente ha gradito molto l'esecuzione dei bandisti. Il teatro mutua era quasi pieno e la gente ha gradito molto l'esecuzione dei bandisti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti